È bastato un gol di Massimiliano Pesenti a questo piace per piegare il Monza al Brianteo staccando in questo modo il pass per la fase nazionale degli spareggi promozione per salire in Serie B. All'arresto ci ha pensato il sorteggio che ha estratto come prossimo avversario dei Biancorossi la San Benedettese da affrontare per la gara di andata alle 20.30 di domenica 20 maggio allo Stadio Garilli. La gioia per questo cammino che può dunque proseguire nel sogno della Serie Cadetta è, oltre che naturalmente di tutta la squadra, soprattutto suo di Bomber Pesenti. L'ha fatto il gol subito e non ci aspettavamo neanche noi ed è stata una gara di sofferenza per tutti gli altri 90 minuti e queste sono le vittorie più belle e fanno capire che siamo un gruppo straordinario e che se siamo sempre concentrati, sempre sul pezzo, abbiamo la fame, la cattiveria, possiamo veramente fare grandi cose. Adesso pensiamo alla San Benedettese che secondo me è un'ottima squadra che se è arrivata al terzo posto nell'altro girone qualcosa ha, hanno degli ottimi giocatori e niente, se ci mettiamo alla stessa cattiveria possiamo fare veramente grandi cose. Nonostante Franz si è chiamato ad un'invenzione degna di Archimede per sopperire alle assenze per squalifica di Della Latta e Togordo a centrocampo, oltre che il convalescente Morosini, in attacco il tecnico di Vernasca può stare tranquillo. Il suo puntero preferito è infatti in forma strepitosa. Purtroppo ci mancheranno due giocatori molto importanti come Togordo e Della Latta, quindi il mister dovrà inventarsi qualcosa a centrocampo. Riguardo a me sì, sono arrivato purtroppo, ho avuto subito un problema ai piedi di una fascita plantare che mi ha condizionato per un mesetto, dopodiché ha detto non ce la facevo più, sono andato a curarmi e dopo i risultati si sono visti. Se sto bene posso dire ancora la mia e posso aiutare questa squadra a arrivare chissà dove, speriamo più avanti possibile.